Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Il Tar ha deciso. Boghera tornerà alle urne per un ballottaggio che vedrà coinvolti il sindaco Carlo Barbieri ed il candidato di centrosinistra Pierio Ezzoghezzi. Lei andrà a votare sì o no? Io per forza devo votare perché se no fanno quello che vogliono e allora voteremo o per l'uno o per l'altro. Cosa ne pensa di questa vicenda, di ciò che è accaduto in questi ultimi mesi? L'ha spavente, preoccupato per le conseguenze che potrebbero esserci sulla nostra città oppure crede che Ghezzi abbia fatto bene a fare ricorso e è soddisfatto? Se chi ha sbagliato, cioè se chi ha invroliato ha fatto qualcosa è giusto che Ghezzi abbia fatto il suo dovere. Cioè invece quello là è nelle sue regioni, non ha niente da temere, è quello. Che domanda. Penso di sì alla fine, con tanta riflessione, ma penso di andare. Cosa ne pensa di questa vicenda, di ciò che è accaduto in questi mesi? La spaventa, è preoccupato oppure prevale la soddisfazione perché è emersa la verità? Mi preoccupa tutto il sistema, tutto, non c'è chiarezza, non si sa mai, tutto complicato in Italia insomma. Comunque è a favore del fatto che Ghezzi abbia fatto ricorso e che quindi ora la città venga commissariata per poter permettere poi un nuovo ballottaggio? Si hanno fatto degli imbrogli e è giusto che la verità prevalga. C'è un degrado totale veramente, anche tra gli elettori. Io andrei a votare per Ghezzi perché non mi sembra corretto questa truffa che è stata fatta. Qualcuno dice di essere preoccupato per il futuro della città di Voghera dal momento in cui dovesse esserci un commissariamento. Lei cosa ne pensa? Certo, spero che vadano velocemente a fare il ballottaggio perché Voghera ha bisogno di essere governata, non di essere in balia continuamente di un non-governo. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot-japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.